Questo è il mio secondo giorno a Dubai. La prima attività che avevo pianificato era il Dubai Miracle Garden, il giardino floreale più grande al mondo. Dalle foto che avevo visto in giro sembrava molto carino da visitare. Certo però che è un po' un paradosso che un posto del genere sia costruito nel deserto. Il Miracle Garden era relativamente vicino al mio hotel, ma non essendoci molti mezzi per raggiungerlo ho optato per un taxi. Infatti i taxi sono un'opzione molto valida per muoversi, pensate che per circa 30 minuti di macchina il costo è stato di 9€. Arrivato al Miracle Garden ho iniziato subito a fare un giretto tra le varie installazioni e ce ne sono davvero per tutti i gusti. Cavalli giganti, cuori ovunque, castelli e anche il villaggio dei Puffi. Tra le mie preferite c'è sicuramente l'aereo Emirates ricoperto di fiori, questa installazione a quanto strana, e le ballerine danzanti. È difficile immaginarsi la grandezza di questo parco, ma ho finito per passarci tutta la mattinata.